Per dieci giorni si decollerà da un'unica pista, quella di destra. È la decisione presa da Enac a pochi giorni dallo spostamento dei voli da Linate a Malpensa e comunicata ieri ai sindaci del CUV. Una scelta motivata come una misura di sicurezza, un vero e proprio fulmine a ciel sereno, un'imposizione dall'alto che non tiene minimamente conto dei tavoli di confronto, delle sperimentazioni delle rotte, degli accordi degli scorsi mesi. Allibiti e agguerriti soprattutto i sindaci di Casorate-Sempione, Somma Lombardo e Arsago-Seprio. Proprio su questi tre comuni, infatti, rispettando la decisione di Enac, sorvolerebbero circa 900 aerei al giorno. È arrivata questa indicazione di utilizzare le piste bloccate per i primi dieci giorni. Quindi la 35 right, quella che insiste su Casorate-Arsago e Somma-Zona Mezzana, per i decolli, e la 35 left, quella che invece insiste solo su Somma, per gli atterraggi. Questa è una cosa che veramente noi non possiamo accettare, perché è proprio nella fascia di maggior traffico. Perché i primi dieci giorni ci sarà il picco di movimenti, arriviamo a oltre 900 movimenti al giorno. Avere tutti i decolli sulla nostra pista significa non vivere più. Senza contare che la specializzazione, in questo caso, porterebbe a un sicuro superamento di tutti i limiti di legge di emissioni in atmosfera e di inquinamento acustico. Lei diceva prima che si teme anche un problema di ordine pubblico, perché la stessa cittadinanza potrebbe decidere di scendere in piazza e manifestare contro questa decisione. Assolutamente sì. Sicuramente la popolazione non starà a subire passivamente. Per cui il rischio è che qualcuno decida di andare a bloccare la superstrada, bloccare le piste, come già in passato è successo. Tra l'altro l'utilizzo alternato delle piste per limitare il disagio è stata una delle conquiste importanti all'inizio degli anni 2000 per cercare di mitigare gli effetti del rumore e dell'inquinamento acustico e atmosferico rispetto alle popolazioni del territorio. Per cui è fondamentale che questo tipo di scenario sia confermato, che a nessuno venga in mente di pensare di specializzare l'utilizzo delle piste, perché questo vorrebbe dire che crea un disagio insopportabile e inconcepibile per il territorio e naturalmente i sindaci questi non lo accelteranno mai. I comuni del CUV dunque non ci stanno e sono pronti ad incontrare il prefetto nelle prossime ore per chiedere che venga tutelata la popolazione. Noi ci siamo sentiti, posso dire, presi in giro e come ufficiale di governo anche vilipesi, perché c'è qualcuno che si sente superiore all'autorità costituita che sono i sindaci del territorio e decide senza nemmeno considerarci, senza nemmeno chiamarci, senza nemmeno condividere questa idea. Per cui noi come ufficiale di governo abbiamo chiamato al prefetto dicendo eccellenza, se la fascia che portiamo ha ancora un valore, lei ci deve tutelare. I sindaci sono impegnati in prima persona, assumendosi anche la responsabilità di proporre piccole soluzioni sui vari temi e attirando su questo anche le critiche a volte di cittadini e comitati. Ecco, essere responsabili però non significa essere presi in giro e quindi chiediamo al signor prefetto di poter intervenire nella riunione che svolgeremo domani per poter rivedere la decisione di Enac.